Inizia ad entrare nel vivo la vicenda Mercafier Stadio. Il sindaco ha annunciato che è aperto il bando per la vendita dell'area sud dove dovrebbe sorgere lo stadio e ha presentato il progetto del nuovo mercato ortofrutticolo che sarà trasferito nell'area nord. L'ultimo rappresenta un investimento di 30 milioni di euro che verrà realizzato a prescindere dal fatto che qualcuno presenti o meno una manifestazione di interesse per l'acquisto dell'area sud. Il mercato verrà riorganizzato con la costruzione di tre nuovi edifici il più importante dei quali sarà quello per l'agroalimentare. Rimarranno gli edifici che affacciano su piazza Arthom e verrà realizzato un padiglione delle opportunità aperto alla cittadinanza. Tempo previsto per i lavori 12 mesi. Strettamente legata a questo progetto e con più incognite è la vendita dell'area sud. Il bando rimane aperto fino al 7 aprile. Contiene indicazioni precise che l'area costa 22 milioni di euro, che sarà consegnata libera e senza bisogno di cauzione entro 20 mesi dalla manifestazione di interesse, che ci sarà una parte di commerciale, una di ricettivo, un albergo tra i più grandi della città, che i parcheggi saranno realizzati dal comune e soprattutto che lo stadio dovrà essere fatto per prima cosa e dovrà avere almeno 35 mila posti. Dal momento dell'aggiudicazione provvisoria del bando, il vincitore avrà 12 mesi per presentare la documentazione necessaria che il comune dovrà valutare. Ma non giriamoci intorno. Affinché sia un successo, a presentarsi al bando dovrà essere commisso. È per la Fiorentina che il comune ha fatto tutto fest, fest, fest. Io mi aspetto una risposta positiva e veloce. È la prima volta in Italia che un comune si rende disponibile a vendere un'area, quindi a cedere la proprietà di un'area per uno stadio che sia effettivamente di proprietà. Questo è il vero modello europeo, perché lo stadio di Firenze sarà raggiungibile con la tramvia che già esiste, sarà raggiungibile con una nuova fermata delle ferrovie che tra l'altro sarà realizzata dalle ferrovie dello Stato, sarà raggiungibile con l'autostrada e sarà raggiungibile ovviamente attraverso la viabilità urbana.